I vigili del fuoco sono stati chiamati nella notte tra domenica e lunedì a 1.45 per un grave incidente stradale in via Domiziana all'incrocio con via Silvio Pellico nella frazione di San Pietro di Rosà in provincia di Vicenza. Il sinistro ha coinvolto un giovane 23enne di Tez sul Brent alla guida di una Toyota Yaris che dopo aver perso il controllo della vettura è finito contro il muro di recinzione di un'abitazione per poi rovesciarsi su un fianco con l'auto. I pompieri di Bassano hanno estratto dall'abitacolo il giovane, privo di conoscenza, rimasto bloccato all'interno. Il ferito è stato preso in cura da personale del SUEM 118 per essere portato all'ospedale. Sul posto i carabinieri di Bassano del Grappa per ricostruire la dinamica dell'incidente.